Eccoci con le novità della settimana sull'arte. Al terzo posto abbiamo questo quadro che è un ritratto giovanile di donna che pur avendo un vestito gioioso festoso ci riporta ad uno sguardo triste e pensieroso, il tutto incorniciato con questa bellissima cornice coeva. Al secondo posto questo bellissimo dipinto olio su tela che rappresenta dei fiori misti con grappoli d'uva allestita in esterno e dominano colori terrosi anche nelle cromie dei fiori e dei frutti. Il dipinto è presentato con cornice coeva. E al primo posto abbiamo questo bellissimo olio su tela che riproduce uno scorcio notturno di paese ed è della scuola olandese del XIX secolo dove possiamo notare anche una firma in basso a destra. Bellissimo come i riflessi della luna illuminano tutto l'acqua e il porto.